Musica Ciao a tutti ragazzi, sono state a 6 e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixiamo No, no, una cosa puntata abbiamo fatto tipo la parte lì, questa qua insomma, ok E allora oggi vi chiedo, faccio la domanda del giorno, visto che è correlata alla domanda che vi ho fatto una scusa puntata Chi di voi ha mai giocato competitivo Pokémon? Noi abbiamo Francesca che ha fatto giusto qualche partita Francesca sarebbe Ladyfra E diciamo, lei è quella più esperta per aver su di Pokémon Nel senso proprio di mosse o che ne so, stati Insomma, c'ha tante cose che io per esempio non sapevo che mi ha insegnato E tipo, voi avete mai fatto competitivo? Non so, avete partecipato a qualche torneo o qualcosa del genere? Ma dobbiamo sapere come è, perché sarebbe bello vedere qualcuno che mi capisce davvero di Pokémon No, quelli che mi scrivono, lì sono segnato di Pokémon Sì, persone cattive, tanto Comunque, allora dobbiamo andare alla ricerca Allora, secondo me dobbiamo metterci un po' di queste cose qua, perfetto Devo fare una cosa molto importante ragazzi Vedete un attimo se abbiamo ancora del Koal Poco, in effetti E mettere a cuocere delle patate Mi sembriano tante patate cotte Ok, dovrei avere un bel po' di Koal qui dentro Perfetto Ok In teoria bastano otto, ok Quindi in teoria facciamo così Perfetto Ok, metteremo a cuocere queste patate perché si serviranno in futuro Visto che il nostro panino ormai sono finiti E allora, oggi andremo a expare il nostro piccolo amico Dovremmo essere solo Dormi? Ok, chiamosi dorme nel frattempo che merilli Ok Mettiamo un attimo lo sui Pokémon A curarsi, insomma Ok E dovrei expare Magmortar E penso a New Ok, allora, prima di tutto New Dobbiamo un attimo levargli il... Una cosa In summary In... Dov'è, dov'è? Qua dobbiamo fare L o R R Ah, questo è Rename Cancel L Ok, livelliamo, ok Ok, sto nanna Perfetto, andiamo a facere la nanna Ottimo Allora, dicevo Dobbiamo farci un paio di cose Eeeh, quindi Andiamo un po' in ciro Che ci serve il giorno Ci serve E tutto, andiamo a vedere un attimo Di fare expare l'Axary Eeeh, vicino a casa di Ema Dove avessi tanta gente Quindi la cosa migliore sarebbe andare lì Eeeh, quindi Iniziamo ad andare Lì c'è... Oh, c'è bug C'è Chargon Chargon, ottimo Pokémon, però Ce l'avevano tutti ormai Quindi non so bene come fare Io farei un bel Thunder Che ci faccio un bel po' di più male Ok Thunder ancora? Ok, bam Ottimo, livello 36 Nice Voglio portare tutti almeno a 45 E per il fine settimana Tutti a 60 Come ho già detto Eeeh, si Charizard Non dovrebbe stare nel team Però per adesso lo teniamo Perché c'è ancora l'ultimo Pokémon Che Dobbiamo decidere ancora Tranquilli, tranquilli Non Non saranno i Pokémon che dite voi Perché voi Voi comandate tanto di te Fai quel Pokémon Sì, quel Pokémon Non OP Però come ho già detto Ce l'ha mezzo mondo Mezza Pixelmon Io voglio qualcosa che nessuno C'ha, ragazzi Cioè Volete mettere? Io devo fare qualcosa che nessuno Ma nessuno ha Chi è che ha Magmortar? Chi è che ha Luxary? Cioè, ragazzi, dai Tutti c'hanno Espion C'hanno Charizard Charizard e OP Sì, ok Ma Magmortar è tipo figo Cioè, volete mettere? Magmortar è figo Ok Ho visto una cosa Mew In teoria potrei anche lasciarlo E non fare Mewtwo Anzi, sto pensando un attimo A vedere quando fare Mewtwo Anzi Stavo pensando se farlo Se lo facciamo tutti assieme Magari nella macchina Sarebbe un'ottima idea Quindi per adesso Boh Non la facciamo Per adesso non la finiamo Però Inserirei una mossa a Mewtwo Visto che ho un po' di soldini E Pianano quanti ne ho? 2000 Ce la faccio? Sì, ce la faccio Farò vedere dopo la mossa Che insegnerò a Mewtwo Ok Che è una mossa molto potente Che a mio parere deve forza avere Uh Sta facendo qualcosa tra casa Ema Allora vediamo un po' Vagli di pokemon ci sono qua Quando arrivo io Non c'è mai nessuno qua Bella roba Eh Un oceano Ok un oceano Io entriano Non c'è una cosa che ho trovato Pulposaur Amico mio Io ti voglio bene Tu vuoi bene me? Merda come lo catturo Vai A culo Se va bene va bene Balba Balba I love you So much So Strongs Balba Balba Non usci al favore Cioè si bravo Io ti voglio bene Tu mi vuoi bene Mi odio e è cresciuto per te Perfetto Papasaur Tortare è molto meglio di te Tu sei una merda Ok perfetto Ciao balba Muori Park Ucciso Ok stranzo Vai via Sì ok ragazzi Ci sono dei pokemon che voglio tantissimo Però non riesco a catturare Perché sono stupido Non porto i pokemon piccolini Tipo Il secondo Il secondo Team a expare Vabbè dettagli Comunque Dicevo Andiamo ad un attimo con quell'urk Un po' in giro Principalmente vicino a casa Perché ho trovato Cioè ci sono un paio di cose vicino a casa Interessanti Soprattutto laghetti Eh Però Anche questo laghetto Doveve bastare Ci sono un paio di gold Qui dentro Che qui ci può bastare forse Ok Facciamo un bel thunder Thunder basta per one shot In teoria Ottimo E guardate Avvero un sacco di esperienze In effetti Perché sia Che vabbè Sono un potenti Sono livello 34 E Abbiamo one shot Ok Eh Vediamo un po' Vene Becchiamo quello Becchiamo Oh cavolo Eh Ok Oh Oh Dai fermo Sia king Thunder Ancora Thunder è una mossa tipo Super OP Oh Merda ha fallito Ok Facciamo thunder Fang Fang Ok Ottimo Eh Allora Nel frattempo Dobbiamo andare Ah Vicino a un'altra parte Perché qui abbiamo M'ha deciso tutti E perché qui ho messo La terra Chi ha fatto un ponte Chi è lo stronzo Che fa i ponti Vicino a casa mia Strazzi di merda Non fate i ponti Perché non li voglio i ponti Non li voglio i ponti Davvero No No I ponti no Comunque Mi fa tempo Goldin 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 Ciao Goldin Ok Eh Un paio di Non mi dispiacerebbero Essenemente un paio di Eh Gratini Perché potrebbero essere utili Per i diamanti Ok Quindi forse Poi qualcuno Sarebbe davvero molto ottimo Però Trovarli qui È abbastanza difficile Dove andare In qualche altro laghetto Tipo un po' più figo Perché questi sono Laghetti Scrausi Quelli solo per me sono Ok Però so dove andare A trovare un paio di pokemon Belli Acqua Vicino Eh Soprattutto vicino a casa Perché è una spiaggia quella Ok Però vicino alla spiaggia C'è un'altra parte Ancora più figa Ok Siamo da soli Sono nel server E Eh Ok Gambrilly Li registra troppo Davvero Davvero troppo Banniamo ragazzi Cioè F1 per Gambrilly Perché lo bagniamo Anzi Tipo Fate così Vedete Qui sotto In descrizione C'è un canale C'è il suo canale Di Gambrilly Fate F1 By Ulisse Ok Fatelo Per favore Se lo bagniamo Diciamo Addio a Gambrilly In questo server F1 Vi raccomando E se non sapete bene Cosa significa F1 Tipo su Su quante strike Si usa Per banare la gente Sì F1 Cosa Ok Mi può guadagnare A avere un sacco Cioè Mi può guadagnare Una merda di esperienze Infatti Con questi Questo metodo Però Va bene Ugo il tentacool Voglio fargli il culo Voglio farlo Oh Merda Ok Tentacool Thunder Sei bello potente Amico mio Oh merda Thunderfag Aia Oh e dai Non ti colpire da solo Non essere stupido Oh wow Ok Perfetto Thunderfag Non è che io muoio Sott'acqua Mentre Ok Le ho 38 Guardate Quanta esperienza Andare in mezzo al mare È un'ottima cosa ragazzi Perché c'è un sacco di Pokémon Molto potenti Che voi non pensate Nemmeno esistano Però Vedete quei tentacool Giganti Che tipo Hanno un sacco Di esperienza Danno Questo livello Più o meno Tra livello 30 Sarà 20 No cosa sarà 20 Sarà 35 Ok Ok Thunder Così lo shottiamo Lo shottiamo In teoria Vediamo se lo facciamo Shottare Ok nice Thunderfag È fatto l'ulisse Thunder non è inutile Thunderfag Molto meglio Certo Con Thunder L'ho usato tutta la vita Dettagli Oh Oh Sali Sarebbe bello Andare da quella parte Ok Perché ci sono Un paio di Pokémon un po' più semplici Poi di Tipo Navigare Fa tempo Vediamo un po' se riusciamo a prendere Quel tentacool A vista Oh L'abbiamo preso È un grande Ok Thunder L'ultimo Thunder Della vita nostra Che mi sa Come sempre Thunderfag Sarebbe Ok Uh Thunderfag Livello 39 Nice Ancora livello Poi andrebbe comunque Abbastanza bene Anche per Per lasciarlo così Per il momento Ok Vediamo qualsiasi Ok va Ok Oh Guarda Guarda Ok Hopla Thunderfag Dovrebbe One shot In teoria Ok Uh Dai Che culo Ok Perfetto Ancora Giusto Qualche altro Pokémon Oh Chinchou Oh Tentacool Level 47 Questo è bello Oh Merda Eh Dovrei avere Una pozione Una pozione Magari Ok Andiamo Tipo Tortare Un attimo Ottimo Perché potrei Shotarlo Però Meglio Non rischiarci Potrei perdere Il mio Luxary Nel frattempo Razorleaf Aia Oh guarda Mi faccio una mazza Earthquake Earthquake Sarebbe inutile In effetti Ah invece È forte Come fa Ah beh Lui tipo Veleno Mi sembra Quindi Earthquake È giusto Fa un male Assurdo Ok Oh Crunch Che lo uccidiamo Sgranocchio Bam Ok Nice Ok Livello 47 Tortare 40 Luxary Quindi io Sono più che felice Così Infatti Stiamo morendo Sott'acqua Perché Perché Sì Aia Ok E allora Questo è andato Perfetto Portiamo Tortare Al Livello più alto Vedete Ne ho trovato un attimo Una parte un po' più figa Dove Spare Anzi no Direi che Mi porta prima Magmortar Livello 45 Quindi Devo trovare qualche Troppo Come un figo Oh Quel siatra Bello Bello Voglio colpirlo Ok Thunderfang Oh Mi abbiamo Shotato No Che merda Mi abbiamo Shotato Però magari Ok Qualche Troppo Come un figo Qui c'è un Tentacol Ma i Tentacol Sono molto lenti Ragazzi Sono brutti Tentacol Lì c'è un Metang Sì C'è un Metang Molto buono E in teoria dovrei vedere la mossa La mossa che mi fa male Come ho detto Era lotta giusto Contro l'acciaio Non mi ricordo Avevo tratto una mossa di Gollur Che faceva un sacco di male A questi qua E sarà una mossa con cui ucciderò Ah beh Il Doom Scusate questo Eeeh Manitudo però Forse Ok si Manitudo Perfetto ragazzi Ricordiamoci che Possiamo uccidere Eeeh Pokémon X Andere in poco Tempo In questo modo Ok Sarà una bella partita Quando L'affronteremo Uh Guarda quanti soldini Wow Milionari 8 gold Tipo 8 8 schifosi gold Wow Ho un altro tenta Qua vicino No Eeeh Le pianure Dovrei dare le pianure Perché le pianure Ci sono un paio di poco Però non so mai Livello a troppo alto E so invece Come per expare Mark Mortar Però mi sa che devo andare Forza di notte Perché di notte Ci sono quel po' Che non voglio io Nel frattempo Eeeh Le patate Ormai vengono utilizzate Come cibo Ok Eeeh Ho un'idea Andiamo Ok Eeeh Pianure Dovrebbero essere Da questa parte Si Da qua Da qua Ok Io un po' Ah queste sono le I kill Eeeh Dovrebbe esserci Anche Eeeh Le cose dell'orb Magari Però è un po' Difficile a vedere Quello dell'orb Anche se in teoria Dovrei prendere Un po' Oltre Su qualcosa del genere Comunque ci vorrà Davvero un'eternità Per prendere tutto quello Eeeh Dovrei trovare Prima di tutto Però Eeeh L'altare Cosa abbastanza Non abbastanza difficile Peggio ragazzi Quindi ci vorrà Davvero un'eternità Comunque come sta Ho messo il nostro piccone Sta nella merda Vero Ah che brutta cosa Aia Ok Allora Qua abbiamo dei goldin Ma non ci interessa Ci serve per trovare Un bel posto Dove possiamo trovare Un sacco di pokemon Eeeh Fighi Ma prima di tutto Dove lo trovare anche Dei piccoli dungeon Magari sarebbe un'ottimità A trovare dei dungeon Anche se sono difficili Davvero difficili a trovare Allora facendo notte Doveve sponare un bel po' Di gente di qua Zubat ci ha sponato Quindi Più o meno la notte Sta avvicinando Eeeh Vediamo un po' Vediamo un po' Eeeh No Di qua che c'è Di qua c'è un piccolo C'è una piccola foresta Abbastanza Normale Devo dire Quindi non troveremo mai nulla di bello Ok quello li vorrò a combattere Questo è forte E aia Questo farà un bel po' di male Però Yum Yumi Ok Wulpix Oh merda Ok Faint attack Ok One Ma Ah che c'è Perché Faint attack Aia Ok Faint attack Ok Questo è morto Wulpix ancora Eeeh Facciamo smog Smog magari Smog è molto utile In effetti Ok Poison OP Ho sempre detto Una delle cose Più fighe di sto mondo Wizzling Ok Il power punch Doveve farlo un bel po' di male Uh nice Non tantissimo Però vabbè Più o meno Li fa un bel po' di male Eh anzi no In teoria dovrebbe farli Più male Faint attack No Eh non li fa comunque male Ok Però abbiamo davvero pochissimi Merkp con Il nostro magmortar Vabbè Dettagli Eeeh Cermelion 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 Faint attack Ok Ottimo Faint attack ancora Ottimo Ok 10 livelli 10 mila Perché comunque Fa un bel po' di male Però un po' di livelli Ci siamo fatti Con questi allenatori Cermelion Ancora Eeeh Ok Manderei Tortera Socialmente Farò un bel po' di male Lo so ragazzi Ok niente Earthquake Bam Morto Oh Fire Bam 20 dollari Perfetto Ottimo Bella roba Bella roba Bella roba I nostri Poi compro Hanno preso un po' di danno Vediamo un po' Dovrei avere Mi sembra Elisirma Etere Etere Eeeh No mi servirebbe qualcosa di un po' più figo in effetti Parliamone Oh Piccolo amico Levelo 24 Truppo basso Girafigli Uh nice Pioggia che Come sempre lagga Ok Abbiamo una parte nuova del mondo In effetti ragazzi Qui non ci siamo mai andati E possiamo trovare anche una piccola caverna Magari Dove possiamo anche esplorare Magari Che dite Uh di Twitch Vediamo un po' di questa forte cosa abbiamo Ah nel deserto dovevi sponare Grondon Cosa difficile in effetti Però Si spona un Grondon ragazzi Noi lo prendiamo Sicuramente Adesso è capitato di sponassero Due Eeeh Dei piccoli amichetti Però Non Grondon Cioè due Così di come si chiamano Eeeh Merda mi viene nessun nome ragazzi Come si chiamavano Eeeh Bella domanda Bella domanda Mi viene il nome Ah si di Chiai Ogre Che è uno che ha preso Xander Però non è sponato Eeeh Quel Pokémon Che ho chiamato Grondon Super OP E magari faremo una lotta Tipo Xander Madò Che figata ragazzi Immaginate la lotta La lotta dei secoli Ci abbiamo pure Rayquaza Siamo a posto Ma hai detto Ulisse vola in alto Perché così Puoi trovare dei Pokémon Eeeh Bene Ho arrivato Questa possibilità Perché in effetti È troppo cittoso Perché Se uno vuole in alto Trova i Pokémon legendari Non è una bella cosa Non è per niente Una bella cosa E in teoria Non Bisogna arrivare al massimo 200 Dovrebbe Non dovrebbe essere abbastanza Per trovare i Pokémon legendari Magari Se adesso tipo Navighiamo all'improvviso Arriverà Boh Grondon Grondon Esponato Bam Cattiveria potente Mi sembra che però Spona non qua Ma Cioè nell'eserto Non adesso So che Nella nuova Pixelmon Spona nella mesa Che sarebbe quella parte Dove c'è Tutta la clay colorata E quella è davvero Molto bella In effetti Oppure Tipo Nel deserto O nelle plains Mi sa Però le plains Ne abbiamo davvero poche Di plains Quindi boh Però domanda Io comunque andrei un po' Più avanti Tipo scoprire un attimo Un po' questa zona Perché potrebbe essere Le belle caverne Dove possiamo scavare E trovare i diamanti Magari E potrebbe essere utile Anche per le enchant Perché un bel po' di esperienza Se lo facciamo comunque Usi dalla clay Ma non ci interessa Per il momento Ok delle pianure Nice Praticamente non sono Le pianure Ma sembrano essere Delle Cose di come si chiamano Le Le montane giganti Insomma Avete capito Avete capito Avete capito Ok Vediamo un po' Usciamo da sto posto Perché è tipo Pericolatissimo Non è una montagna gigante È tipo una piccola pianura Schifo Sono uno schifo Perfetto Nice Ok Usciamo da sto posto Grown Non si ci sei Batti un colpo Oh lì c'è un bellissimo Bellissimo Bell Beacon Che io ucciderò Oh il velo 6 Però Sono giganti Sti bacon Ragazzi Uno snorlax Nice Questo lo vorrei uccidere Con Golurk Ma di tutto Heavy slam Heavy slam Doveve fare un bel po' di male Perché è più Pesa L'avversario Oh infatti Heavy slam Bam Ottimo E Vega punch va Bam Sciottato alla fine No non ha effetto Ok Normale non va bene Contro il bug Perfetto Ok Critical hit Cosa mi ha droppato Cosa mi ha droppato Oh mi ha droppato qualcosa Ragazzi Eh Ah Una Una mela Perché mi droppa le mele Oh ragazzi Quello OP Quello OP Ok Mog mortar Perfetto Funny Fire punch Ho sciottato Nice Oh merda E Fail punch Non uccidemi in favore Oh merda Non uccidemi Merda Chalizat Vai Chalizat Eh Farfank Ok Pietratuono E dream hit Ok Dream hit È molto utile Se facciamo Per esempio Ipnosi Quindi se magari Ci sono a trovare Ipnosi in futuro Sarebbe davvero Un'ottima cosa Mi segnerà per esempio Anche a Uno snorlax Snorlax È vero Molto OP Con quella mossa Devo dire Potrebbe essere davvero Un'ottima cosa Non ho trovato Dei lapras ancora Non so se sono Tipo impossibili A trovare Per il momento Oppure Devo andare tipo Lontano Oppure nel mezzo Di qualche altra parte Comunque Sono difficili da trovare Su questo non ci sono dubbi Non ho visti Nessuno che l'ha trovato In un momento Quindi penso davvero Sì siano difficili Prendiamo quel coal Che facciamo un po' Di esperienza Vedete Spesso proprio di sì Mangiamo la mela Nel mentre Tanto ci sono dati Di snorlax Ok Merda Ottimo Prendiamo la coppola Dirt Dirt Ok Prendiamo questo Piccolo coal Nel mentre Che poi è piccolo Parliamone Ci sono tipo Le cose gigantesche Di coal Ok Wow Quanto ce l'è Ma non mi interessa Tanto basta che lo prendo tutto E quello è importante Anzi L'expo mi serve a me Non mi interessa il coal Potrebbe essere C'era anche tipo Due pezzi Basta che c'è l'expo L'expo è importante ragazzi Sempre e comunque Vado a fk sul letto Quindi se ti serve Non mi interessa Esci dal gioco Via F1 F1 Ok Niente Grondon Penso che non spawnerà mai Da questa parte Penso che Tipo Boh Bella domanda Ma le quattro Chicchiamo ragazzi Tranquilli Tanto non abbiamo i poteri Quindi io chicchiamo Chicchiamo la gente cattiva Non penso Troveremo mai un grondon Da queste parti Soprattutto quando piove Qui è proprio il massimo Guarda E Sembra una caverna No infatti non è una caverna È una cosa bruttissima Dove siamo Qua Qua si Ok Lag Lag Ok Di qua non abbiamo Esplorato Quindi di qua dobbiamo andare Uh del ferro Nice Ottimo Apriamo un po' Apriamo tutto quello che troviamo Tanto alla fin fine È sempre roba buona Oh qui c'è una caverna Bella la caverna Eh se dovete vedere la legna Dovrei averla In teoria Ok Facciamo un po' di torce Anzi dovrei avere delle torce Direttamente No non ho delle torce Le usate tutte probabilmente Ok Uh Va perfetto Un paio di torce Vediamo un po' dove porta Sta cosa Oh La nostra piccola È bellissima È un nostro bellissimo iron Si porta dove c'è del diamante Sarebbe un'ottima idea Ok Bello Sì sì diamante Bello No davvero Come faccio A uscire da sta zona adesso Ok Mentre comunque Il tap misuratore Possiamo anche In teoria Metterlo a posto Tanto per il momento Non ci interessa Ok Ottimo Abbiamo preso un altro di questo Eh usciamo da sto posto Va che non è un'ottima idea Rimanerci Ok Il tempo sta tornando a capo la notte Siamo partiti di giorno E siamo tornati a capo di notte Siamo arrivati a capo di notte Qui c'è andata a caverna invece Questa parte Questa sembra che scende un po' più figa Ok Arriviamo a livello 10 Almeno 15 Più o meno Giù di lì Mi servirà un bel po' di esperienza Avete capito questo Ok Ottimo Eh più o meno Siamo tutti livello 40 Ok giusto Però vabbè Si Charizard non c'entra una mazza nel team Lo so ragazzi Lo so Però per il momento lo tengo Perché potrebbe essere utile Guardate con questi Pokémon fighi Boss Che possono essere comunque Di Di lo stesso tipo Che vogliamo uccidere Insomma Insomma se sono dei tipi strani Dobbiamo ucciderli per forza Basta Non c'è motivo Peggiore di questo Ok Perfetto Ho qui c'è della Limestone Ma non ci interessa Vediamo un po' più basso Di qua c'è del Coal Servirebbe davvero del diamante Però mi servirà anche un piccone Con fortuna Non troverà soltanto un utilizzo Il piccone al momento Quindi Non so quanto sarebbe utile Usarlo Però davvero Mi serve Enchantare un altro Qualcosa Mi serve fortuna ragazzi Non vedo l'ora che escono A 1.8 Perché a 1.8 Ha aggiunto davvero una cosa bellissima Per quanto riguarda L'enchanting Però devi avere forza Tre livelli Però dal certo punto di vista È un'ottima cosa Un'ottima cosa davvero Eh Vediamo un po' Ci andiamo un attimo di qua Magari troviamo qualcosa di bello Ok Lasciamo il Coal Perché non ci interessa Per il momento Devo soltanto trovare Un paio di robe buone Tipo l'Iron E altre cose Si prendono dell'Iron Perché abbiamo finito Sì la palestra Abbiamo bisogno ancora Di tantissimi soldi Per le mosse Perché Poi farò vedere Magari nel prossimo episodio Qualcosa di carino Che è figo Anche con Insomma tranquilli Poi vedete domani Dove vedete Ok Ok Oh qui c'è Altra roba La Voxit è un po' più Difficile da rompere Diciamo Rispetto al normale ferro Ok Il nostro piccone è davvero Guardate quanti utilizzi ha ancora Tipo un sacco ne ha Tipo ancora 1.5 Davvero questa cosa è buona Ottimo Prendiamo questa Voxit Che potrebbe essere utile Magari in futuro Per come ci ha detto La macchina di Di New Che per adesso non faremo Sì ho già detto Che non faremo La macchina di New Quindi ok Dattelo sempre nei commenti Tu lì Se quando farei Tante cose Tipo morire nella lava Ora Tipo no Ok morire nella lava No Non è un'ottima idea adesso Comunque Si però adesso ci sono tante cose Dovrei fare Pian piano le faremo Non preoccupatevi Ok Ottimo Eh ti dice qualche Cosa interessante Nel livello 26 Non troveremo mai Di diamanti di qua Però abbiamo trovato Qualcosa di interessante Ovvero Una piccola Una cosa del genere Che sarebbe tipo Molto Che sia molto utile In effetti Per trovare di diamanti Anche Di qua scende 21 19 Qui posso trovare Di diamanti Per esempio Uh smeraldi Nice Questi mi servono Oh merda Redstone Ok Redstone Mi serve anche Mi sembra un altro Un altro modo di coppestone Guarda mi servirebbe davvero Il piccone con fortuna Anche per le smeraldi Però vabbè Vediamo almeno uno Quora adesso Ok Però lì non c'è nulla Il ferro Ok Abbiamo avuto un sacco di ferro Però come ho già detto Sono senza soldi Anche senza ferro Quindi Il ferro mi serve davvero Un sacco A meno per il momento Eh di qui Vediamo un po' Redstone Redstone Petrafuoco Di qua è la petrafuoco Ragazzi Se non l'avete mai vista Di qua non c'è una mazza Sì la redstone ragazzi Non mi serve tantissimo Per questo la sto lasciando Per il momento Potrebbe essere potessi Magari per qualche soldino Però Eh Non ce l'ho voglia Faticamente di fare Tanta roba A meno per il momento Ok Vediamo un po' Di qua Diamanti Diamanti Where are you? Si è a livello 13 Prova a fare un piccolo tunnel Che dite? Ma lì c'è un cento pokemon Magari che poi dopo usciamo Andiamo un po' a scoperta Nel prossimo episodio Che dite? Prima di tornare a casa Magari troviamo qualcosa di bello Troviamo un groundon davvero Troviamo una fortezza Qualcosa di bello Insomma qualcosa troveremo State nei certi Ok di qua Niente Andiamo di qua Si sono sicuro Che non troveremo mai Di diamanti Ragazzi State nei certi Perché La nostra fortuna In termini di diamanti È tipo Zero Infatti c'è ferro C'è tantissima roba Ma niente di diamanti Ne sono certo Ok Andiamo più o meno Siamo a 1216 Andiamo tipo a 1280 1180 Tipo Vediamo un po' Se siamo fortunati Troviamo il diamante Se non siamo fortunati Ci attacchiamo E ci ne andiamo a casa Oh Eccolo qua Bam Parlavamo Siamo stronzi Lo so ragazzi Siamo stronzi davvero Ok Vediamo un po' Cioè vabbè Siamo davvero Un sacco di diamante E la madonna Quanto ce n'è Io ne parerebbe Più piccone Sicuramente Ok Anzi io farei così ragazzi Facciamo un waypoint Diamond Diamond Perfetto E Io proverò a fare una cosa Dicenamente Se sono fortunato Allora In tutto però Prendiamo questa roba Perfetto E mettiamola per terra qua Ok E Continuiamo un attimo A esplorare Devo arrivare a 80 Come ho detto Sì Sì però Dovrò prendere il presto possibile Perché in effetti Le coordinate ci sono Potete dirlo ad altre persone E altre persone Potrebbero andare a prendere I nostri diamanti Quindi non sarebbe Non sarebbe proprio Un'ottima idea Infatti andiamo avanti Vediamo un po' 80 Ve l'ho letto Vediamo un po' Se siamo fortunati Due volte di seguito E troviamo tipo Che ne so Un'altra cosa di diamante Gigantesca Come questa 80 No Andiamo a 50 Ah ci ho 50 Velocemente Ok Altro ferro Redstone Non ci interessa Ferro Oh quanto ferro c'è Nice Ok ragazzi Cici comunque per quei diamanti Perché noi siamo sfortunati sempre Però oggi Sembra vedere che Siamo davvero molto fortunati Quindi GG Però lì si è fortunato ogni tanto E boh ok Forse troviamo qualcosa di bello Ancora un po' più avanti Forse 50 Magari troveremo Ne so 18 milioni di diamanti Tutti insieme E il nostro piccone con fortuna Dovrà Prima o poi Eser utilizzato Si mi sarebbe avere un piccone In diamanti con fortuna Ragazzi Sarebbe avere un'ottima idea E di fraggio in alto Ragazzi non dite niente Non dite niente 50 Niente Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Niente Ok la fortuna una volta viene C'avete ragione anche Qui c'è dell'acqua comunque Mentre qua C'è dovrebbe essere una caverna Penso più di qua Sembra qui sotto tipo O qui sopra o qui sotto Penso sia più qui sopra Sinceramente Se penso più sia sopra Che sotto Ok lava Eh ole vai Lava Niente diamanti Probabilmente Perché siamo Sfortunati Vediamo un po' Qualcosa ci sarà Qua vicino Tranne la lava Incessante Perché quella c'è sempre Oh Diamante Nice Siamo in cercatori Cercatori di diamanti Ragazzi siamo Ottimo Oh Merda Ok Opla Sono pochissimi Non sono tantissimi Però almeno Ci accontentiamo Ok Sono tipo Forse sono sopra Ah però Però non sono tantissimi Vabbè Bastano Bastano Ok Diamant 2 Ok E Andiamo a cercare Un altro pezzottino Di diamanti Magari siamo Fortunatissimi Oggi Ne troviamo Tipo un sacco E si C'è però Piccone con fortuna Ragazzi Magari le prendiamo Anche normali Però no Fortuna è più figo Dicino alla lava C'è sempre qualcosa E deve essere qui sotto Ragazzi Qui sopra Qui sotto La cosa Qui sotto Infatti Addirittura Al livello della bedrock Ok Qui si possono trovare Anche di diamanti In effetti Parliamone Sì certo Non troverò Un manamazza Ragazzi Qui sotto Non sono certo Ok però Vi dicevo Che c'era Dell'acqua So già Che c'era Dell'acqua Perché io Ho le cuffie Super potenti Anzi vi ricordo Che le mie cuffie Sono le G430 Che tipo Molti mi chiedono E quindi Meglio Ricordarvelo Andiamo Passi Affortunati Arriveranno Altri diamanti Tra 20 blocchi Probabilmente Forse Sì ragazzi Non sto usando L'ax ray Tranquilli Molto a caso Sto facendo tipo A culo Se siamo bravi Siamo geniali Insomma Ci abbiamo un culo Altriamo i diamanti Se no Che se ne frega Lava Quindi Diamante Eh ragazzi Io scherzavo Non sto usando L'ax ray Non sto Ragazzi 18 milioni di like Per questo Diamanti super fighi Tutti non li abbiamo trovati Ragazzi Ma Quanti diamanti Abbiamo trovato Cioè No ragazzi Sto a posto Mi piace Sto a posto Mi piace Io rimango qua Per sempre No Merda Non devo rompere Quella parte No Qui c'è la lava Ok Allora Vediamo un po' Eh Eh Ok Qui c'è un posto di lava Ok Devo chiudere un attimo con la lava Aspetta un secondo Eh Come faccio Eh Appena un secondo Allora Aspetta Allora Appena un secondo Devo farci così Devo farci forza Oh Ecco la lava Ecco la dove esce Ok Saremo un attimo Sopra Oh Guardate Quanti Firestone ore Ci sono A fare Sono più veloce Vicino al Al coso Qui è la lava Quindi è normale che Abbiamo problemi Tipo la lava Ok Dovrebbe andare bene In teoria Oh Merda Ok Dovrebbe bastare Piano così Uh Bello Quanti Diamanti Ok ragazzi Diamond 3 E io mi fermerei qua Lascio stare Diamond Diamond 3 Perfetto Quindi ragazzi Dovrei sapere Tutto ci vediamo Nel prossimo episodio Nel frattempo Boh Anzi 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 Dovrei volare Più o meno Tipo Dovrei uscire Da questo posto Però Merda Come faccio Quanto c'ha Utilizzi piccone Tre Utilizzi c'ha Merda Dovrei unire questi due picconi Mi serviranno un bel po' di livelli Ragazzi Cola Go Go Redstone Insomma Dovrei prendere un paio di roveri Questi qua Ok Non mi sa Tanto recuperare la roba Ma quanto più Livelli Ok Il nostro piccone comunque è abbastanza È il piccone di cerca di diamanti ragazzi Altro che tipo Mining estremo E io Trovo le cose a culo Ok Perfetto Allora Bom Diamanti ragazzi Diamanti a go go Dovrebbe uscire tipo Tra dieci cose ancora Sì Oggi sono in vena di trovare i diamanti Mi sa Probabilmente fra Più o meno Mille Mille qualcosa Mille 97 Boh Cosa del genere Probabilmente Andiamo un po' Sì Non troverò più nulla ragazzi Non sono certo Eh no Sono dall'altra parte Quindi ok Mille 97 sarebbero 200 blocchi Più avanti Not Not a good idea Lava di qua Quindi di qua Dovrebbe se c'è davanti No Questa parte Scusate Ho sbagliato strato Di avanti Sono da qua Sono di qua Sono di qua Sono di qua Sono di qua Lascia sta che sono di qua Lascia sta che sono di qua Vediamo un po' Vediamo un po' Niente davanti Niente davanti Niente ragazzi Basta La nostra fortuna è finita Mi sa Quindi Bon Niente davanti ragazzi Niente E di fra uscita Nel frattempo Basta ragazzi Niente Niente davanti Mi dispiace Oh Va via Eh no Forse Sapete che forse di qua Forse di qua Vediamo un po' Ferro Ok Quando trovo il ferro Trovo anche i diamanti Dietro tipo Pino di lì Eh niente ragazzi Prossimo episodio Ciao Ciao